Con il Raduno allo stadio Marco Tomaselli ha preso il via ufficialmente la nuova stagione sportiva 2024-2025 che vedrà la Nissa tornare a giocare nel campionato di Serie D. La prima seduta di allenamento verrà svolta stamattina. Allo Raduno erano presenti i nuovi acquisti della società nissena, tra cui Manzur, Agnello, Aloisi, Rotulo, Maltese, Samache e l'ultimo acquisto Mattia Tuminelli, Nisseno Doc.